Quasi definiti gli adempimenti relativi al pagamento di stipendi e contributi e alla presentazione del necessario per l'iscrizione al prossimo campionato, che sarà perfezionata forse anche prima della scadenza indicata, ovvero il 30 giugno. Si attendono ora i primi annunci relativi al mercato e in quest'ottica il primo in assoluto potrebbe essere quello di Tommaso Coletti, il centrocampista nativo di Canosa in scadenza di contratto col Matera, addetto sì al Foggia, convinto dal progetto che De Zerbi gli ha illustrato nei dettagli. Sarà lui il primo rinforzo del Foggia edizione 2015-2016 con Coletti, avvistato stamane in città. Il Foggia si arricchisce di una pedina duttile, il mediano può infatti agire da regista difensivo e nelle idee di De Zerbi il giocatore Canosino potrebbe affiancare Gigliotti al centro della difesa. De Zerbi infatti ama i difensori dai piedi buoni, in grado di impostare la manovra sin dalle retrovie. Chi dunque meglio di Coletti, che nasce centrocampista e che il ruolo di difensore centrale tra l'altro lo ha già ricoperto. Dopo Coletti si punterà forte su Floriano. Il Foggia ha già in mano l'accordo col giocatore. Resta da trovare quello col Pisa, che detiene attualmente il suo cartellino. Sempre De Zerbi sta provando a convincere Scaglia, il centrocampista del Brescia, e in cima alle preferenze dell'allenatore. E nei prossimi giorni potrebbe vestirsi di rosso-nero. Di certo l'obiettivo del direttore sportivo di Bari è quello di chiudere il cerchio entro il 12 luglio, giorno della partenza per il ritiro precampionato di Norcia. In Umbria De Zerbi gradirebbe lavorare con l'organico al gran completo e che debuterà in Coppa Italia il 2 agosto. Per il campionato invece potrebbero subire delle variazioni le date di avvio. Tutto dipenderà dalla velocità della giustizia sportiva, chiamata ad un lavoro suppletivo dopo l'ultimo terremoto che ha travolto il Catania e diversi calciatori del campionato cadetto. Un'indagine che viaggia in parallelo con altre inchieste che di recente hanno scosso il mondo del pallone.